Ale, 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 ale. Ci troviamo in diretta dallo stadio classe terza B per vedere la partita dei social bot, i social bot che abbiamo vestito noi. Ora ci sarà la partita, si stanno preparando negli spogliatoi i nostri social bot. Fra un po' entreranno. Questa sarà una partita bellissima, ma non è una partita in cui si deve sconfiggere l'avversario come le altre, ma è una partita in cui si devono mostrare le loro abilità nel fare i passi giusti e arrivare al traguardo, in questo caso fare i gol. Ora ci sarà il fischio dell'arbitro perché ci sono già entrati in campo. Adesso è il fischio dell'arbitro. È iniziata. Allora, bot cerca di prendere palla. Prende palla e cammina. Ora interviene Bit, che cerca, cerca, cerca il gol! Un giorno all'improvviso, mi innamora di me, il cuore mi batteva, non chiedermi perché! Mi tengo aver passato, che siamo ancora qua, e oggi come allora, dai vici, urrà! 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 Urrà!